Musica 90 violazioni al codice della strada, 9 lavoratori in nero, sequestri di droga e di oltre 6.000 prodotti non sicuri o contraffatti il bilancio dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza Non si ferma il fenomeno dell'erosione costiera, pesori gestori degli stabilimenti balneari lanciano l'allarme, persi 20 metri di spiaggia Servirebbe un intervento in vista della prossima estate Eh sì, speriamo, perché se no c'è un'altra fila sarebbe da togliere, perché come vedete la prima fila è quasi nell'acqua Danni economici alle attività e pericoli per ciclisti e pedoni Fratelli d'Italia va all'attacco e critica le scelte della giunta serie sulla ciclabile di Viale Dante Alighieri Sono tutti scontenti, ha detto Manocchi, e per i 60 parcheggi promessi nulla è dato sapere Sicurezza stradale davanti alle scuole, trasporto anziani e disabili e sorveglianza L'ex caserma Paolini a Fano, il CB Club Mattei cerca nuovi volontari per i servizi a favore della comunità Dibattito sul testimonial della regione Marchia Acquaroli conferma Mancini, ma Biancani suggerisce chi meglio di Valentino Rossi Domenica 3 settembre torna la pedalata ecologica alla perangelica di Serra Ungarina Attesi centinaia di mountain biker da tutta la regione Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia In primo piano i controlli estivi a contrasto dei reati economici e finanziari Un bilancio che conta denunce e sequestri eseguiti dalla Guardia di Finanza della provincia di Pesaro e Urubino Filippo Pucci Nel mese di agosto i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro Hanno intensificato i controlli a contrasto dei traffici illeciti in materia economico-finanziaria Le verifiche si sono concentrate prevalentemente in orario serale e notturno dove sono state identificate oltre 1200 persone di cui una destinataria di un provvedimento di rintraccio Inoltre sono stati controllati 771 veicoli ed elevate 90 violazioni al codice della strada Lungo il litorale invece sono stati controllati 16 esercizi pubblici 8 soggetti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Pesaro per violazione della normativa sui diritti d'autore mentre in materia di lavoro irregolare sono stati individuati 9 lavoratori in nero Passando ai controlli alle attività commerciali in materia di canone di abbonamento speciale RAI e di corretta emissione telematica degli scontrini e delle ricevute fiscali sono state riscontrate rispettivamente 1 e 18 irregolarità Sono stati sequestrati oltre 1300 prodotti non sicuri e quasi 4800 articoli contraffatti Il rafforzamento dell'attività di servizio svolta nelle acque del Pesarese da parte del reparto operativo aeronavale di Ancona ha consentito in questo ultimo mese di effettuare 71 controlli a imbarcazioni da diporto e unità da pesca e rilevare 14 violazioni di carattere amministrativo I finanzieri hanno poi sottoposto a sequestro oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente quali marijuana, hashish ed eroina grazie all'ausilio di unità cinofile antidroga denunciando alla procura della Repubblica di Pesaro due persone per violazione della normativa penale in materia di stupefacenti e con la segnalazione per consumo alla prefettura di quattro soggetti Non c'è pace per i gestori degli stabilimenti balneari che anche in questa estate hanno fatto i conti con l'erosione costiera Questa mattina siamo andati sulle spiagge di Pesaro per analizzare la situazione dopo le mareggiate di questi ultimi giorni Marco Lonigro I gestori delle spiagge in difficoltà a causa dell'erosione costiera un fenomeno che si accentua anno dopo anno e che obbliga gli stabilimenti balneari ad eliminare lettini e umbrelloni Diverse mareggiate negli ultimi giorni a causa del maltempo scopriamo qual è la situazione attuale con i gestori delle spiagge a Pesaro Sono delle alte maree enormi che seguono il Garbino Il Garbino è una depressione che comunque fa alzare il livello del mare quindi ci siamo ritrovati l'acqua praticamente a più di metà della spiaggia ma di questi periodi ci sta anche perché il mare si riprende i suoi spazi è normale e naturale che sia così Abbiamo dovuto tirare sui lettini fino al settimo o tavo ombrellone e non ce l'aspettavamo perché comunque non avevano messo nessuna allerta e niente, ci rischiamo come a metà luglio, come a inizio di agosto queste onde anomalo mareggiate non previste E persiste il fenomeno dell'erosione? Sì, infatti il mare ha mangiato circa 20 metri di spiaggia e oggi dovremo togliere i primi ombrelloni per far star meglio i clienti pur non essendo la fine della stagione La situazione è che abbiamo mangiato altri 20 metri di spiaggia già siamo partiti con una spiaggia molto piccola perché a Levante ha rifatto il ripascimento delle scogliere tranne la nostra qui davanti e quindi ogni mareggiata ha mangiato spiaggia infatti fortunatamente l'estate sta finendo e quindi però siamo molto al limite abbiamo dovuto cavare degli ombrelloni così, mangia di continuo Dunque continua il fenomeno dell'erosione quindi? Sì, sì, esatto, esatto perché poi, come ripeto, la nostra scogliera è l'unica che non è stata rifatta quest'inverno, la primavera, quando ha fatto tutti gli altri lavori Servirebbe un intervento in vista della prossima estate? Eh sì, speriamo perché se no c'è un'altra fila sarebbe da togliere perché come vedete la prima fila è quasi nell'acqua Il fenomeno dell'erosione ha condizionato la stagione estiva che ormai giunge alle battute finali immancabile dunque un primissimo bilancio sulla bella stagione La stagione, come vedi, evolve al termine ormai siamo alla fine per cui posso dare un primo bilancio posso dire che ancora i conti non sono stati fatti ma posso dire che è stata una stagione molto altalenante abbiamo perso il mese di giugno luglio è iniziato molto tardi agosto abbiamo lavorato ci sta tutti in ferie però è stata una stagione alquanto particolare direi dopo 34 anni che sono qui credo che sia stata la stagione più brutta in assoluto che ho fatto io L'estate è partita, come sappiamo, è partita da Rilente è partita, maggio-giugno malissimo e dai luglio-agosto è andata abbastanza bene non abbiamo recuperato quello non abbiamo lavorato come l'anno scorso però dai non ci lamentiamo dai L'estate è partita, dai, diciamo un po' tardi dopo il tempo brutto che aveva fatto però abbiamo fatto un luglio e un agosto abbastanza positivi non va meglio agli stabilimenti balneari di Ponte Sasso che anche oggi hanno subito danni e disagi sono diversi gestori che ci hanno inviato dei video per mostrarci la situazione una totale indifferenza di chi dovrebbe assisterci ha scritto sul nostro gruppo Facebook Marco Mastro Giacomi nessuno escluso, aggiunto associazioni comprese abbiamo passato inverni e stagioni estive a rincorrere la sabbia che il mare ci portava via giorno dopo giorno tutto a nostre spese i turisti, a proseguito nel post si aspettano di trovare spiagge pulite e organizzate spiagge dove far giocare i bambini lungo la battigia e invece si ritrovano mezzi che cercano di ripristinare la spiaggia nel minor tempo possibile acqua sotto gli ombrelloni lettini appiccicati e scolmatori scoperti di tutto quello che vorrebbero qui non c'è quasi più nulla e a breve non troverete più nemmeno noi stanchi di lottare con persone sorde l'importante, ha concluso Mastro Giacomi è salire sul carro dei vincitori però chi trascina quel carro siamo noi operatori, baristi, ristoratori, negozianti che ci crediamo, investiamo e sputiamo sangue non si placano le polemiche sulla viabilità in Viale Dante a Ligheri e a Fano al termine della sperimentazione della pista ciclabile Fratelli d'Italia torna a criticare le scelte della giunta serie ciclabile, marciapiede, parcheggio Loretta, perché secondo voi la viabilità e la sicurezza in Viale Dante a Ligheri sono peggiorate? avete raccolto delle lamentele? sì, abbiamo raccolto tante lamentele da un punto di vista della sicurezza i pedoni non si sentono sicuri perché al momento c'è breccino delle buche e scarsa illuminazione chi lo percorre la pista ciclabile con la bicicletta spesso si sente proprio un'invasione della pista stessa da parte dei mezzi pesanti che chiaramente per le dimensioni sforano la carreggiata e che chiaramente rendono insicuro quel tratto questo in prima battuta non da ultimo il fatto di aver tolto dei parcheggi non aver di nuovo investito come invece promesso su ulteriori parcheggi determina il fatto che chiaramente le attività commerciali hanno sofferto nell'immediato hanno continuato a soffrire e di questo non se ne è tenuto debittamente conto ma anche gli stessi residenti comunque notano anche questa velocità importante da parte degli automezzi che sfricciano a una velocità impressionante quindi abbiamo raccolto tante, tante veramente tante segnalazioni tanta preoccupazione e anche sicuramente tanto disagio anche perché sono rimaste inascoltate tutte quelle che erano non solo le lamentele ma anche le proposte alternative Contestate anche la mancanza di una visione di insieme legata alle opere da realizzare che cosa nello specifico? Noi riteniamo come Fratelli d'Italia che la progettualità di una città e quindi quello che involge in questo caso le avviabilità e tutte le opere che si andranno a determinare come i futuri marciapiedi piuttosto che la strada delle barche che dirotterà gran parte del traffico pesante quindi per quanto riguarda la nautica piuttosto che i mezzi pesanti non potevano essere presi in considerazione ancora prima di fare questa sperimentazione che oggi appunto parrebbe essere confermata nella misura in cui vedere il progetto su largo specchio e considerando quelle che saranno le future opere le opere si doveva appunto tenere conto che un domani ci sarà il dirottamento di questo traffico è chiaro che magari la viabilità su Dante Alighieri poteva essere trattata in misura differente non si può non considerare il disagio che hanno e hanno avuto i commercianti e i cittadini alla luce anche di quello che in futuro verrà realizzato quello che noi critichiamo e contestiamo quotidianamente ecco questa parziale visione delle necessità della città delle opere da realizzare che invece in una città come Fano devono essere più aperte più complesse e sicuramente più a largo raggio e a proposito di viabilità oggi da Cucurano di Fano ci è arrivato questo video inviato da un nostro reporter di strada ecco queste sono le condizioni delle strade dell'introterra fanese a 4 km del centro di Fano siamo sulla Patuccia località Cucurano questo è il canneto avete visto praticamente per occasione è passata una macchina pensate se viene giù una macchina nella mia direzione che sto percorrendo che cosa ci facciamo la frittata dopo la frittata che la paga grazie a tutti cambiamo argomento e parliamo dei servizi svolti dalla protezione civile perché a Fano il CB Club Mattei è alla ricerca di volontari operativi tutto l'anno i volontari di protezione civile si occupano di prevenzione diffusione di buone pratiche tra i cittadini e nelle scuole conoscenza e controllo del territorio manutenzione dei mezzi delle attrezzature frequentano corsi di formazione e di aggiornamento ed intervengono in tempi rapidi in caso di calamità uomini e donne che aiutano la popolazione anche garantendo la sicurezza stradale davanti alle scuole a Fano il presidente del CB Club Mattei Saverio Livi oggi ha lanciato un appello per cercare nuovi volontari che abbiano voglia di impegnare un po' del loro tempo libero per mettersi a disposizione della propria comunità Presidente quali sono le competenze richieste e per quale mansione? Questa ricerca di volontari è dovuta al fatto che per dare dei servizi in città noi usciamo quasi 40 volontari tutte le mattine una decina sui furgoni per il trasporto anziani e disabili parte sullo stabile della caserma sorveglianza e 28 davanti alle scuole questa esigenza questi progetti soprattutto dell'amministrazione comportano sempre un po' più di volontari e ne siamo abbastanza a corto perché durante l'inverno i volontari che sono addetti per questi servizi sono quasi pensionati e quindi hanno la necessità di essere liberi un giorno libero due giorni liberi una settimana libera e quindi siamo sempre al limite ed è per questo che cerchiamo dei volontari che siano liberi dal lavoro pensionati casalinghi ragazzi che studiano che riescono a svolgere oltre al discorso di protezione civile lo faremo a ottobre un appendei per ricercare i volontari di protezione civile perché quello è sempre più importante ma oggi siamo a chiedere a quelle persone che sono andate in pensione si annoiano non sanno cosa fare di dedicare qualche ora al Cibiclub Mattei per far sì che noi possiamo dare quella risposta che il comune e le istituzioni ci chiedono per dare una mano alla polizia locale o ad altre istituzioni che col volontariato in pratica riescono riusciamo a dare un servizio migliore alla città questi volontari poi potrebbero essere chiamati in caso di emergenze se lo desiderano sì mentre quando facciamo l'open day in protezione civile è obbligatorio li cerchiamo per la protezione civile quindi gli facciamo un corso per tutto l'anno di segreteria radio cucina logistica in questo caso poi secondo si si trovano bene perché sono tutti insieme è un'associazione quindi saranno loro a decidere se a ottobre vogliono fare anche protezione civile inizieranno i corsi e saranno al pari di tutti gli altri come è possibile iscriversi o contattarvi? basta che mi chiamano direttamente e daremo le informazioni necessarie al 347 89 10 941 è il mio numero diretto e quindi tutte le domande le richieste e poi magari ci vediamo e approfondiremo anche continuo a far discutere la questione riguardante il testimonial della regione Marche oggi Andrea Biancani consigliere regionale intervenuto ai nostri microfoni e proposto Valentino Rossi come figura utile alla promozione del nostro territorio sentiamo dopo Matteo Ricci anche il consigliere regionale Andrea Biancani ha parlato in merito alla conferma di Roberto Mancini nel ruolo di testimonial della regione Marche ieri il sindaco di Pesaro ha proposto di sostituire l'ex cittiazzurro con Tamberi per Biancani invece si potrebbe affidare a Valentino Rossi il ruolo di testimonial per la promozione del territorio Innanzitutto stiamo parlando di personaggi a livello sportivo che tutti sono importanti tutti hanno comunque svolto e hanno un ruolo importante a livello nazionale ma anche internazionale io ho fatto quest'altra proposta quella di Valentino Rossi perché mi sembra che forse se parliamo di persone che conosciute nell'ambito sportivo perché ovviamente potremmo se parliamo di tutto potremmo individuare tantissime altre persone ma se proprio dobbiamo individuare uno sportivo come testimonial per le Marche ritengo che nessuno come Valentino Rossi possa essere così riconosciuto e riconosciuto Valentino Rossi che ha anche una grande capacità a livello comunicativo e quindi nel momento in cui uno deve essere un testimone deve essere in grado di comunicare probabilmente chi come lui è stato in questi anni così empatico ed ha avuto la forza ma anche e soprattutto la capacità di farsi riconoscere di farsi benvolere e di fare in modo che i miei quelli che sono le persone che sono tifosi di Valentino sono sparsi in tutti i paesi del mondo e probabilmente sono milioni e milioni di persone quindi noi abbiamo la fortuna di avere un marchigiano così conosciuto secondo me deve essere preso in considerazione anche questa possibilità Il governatore della regione Marche Francesco Acquaroli ha immediatamente spento le polemiche confermando Roberto Mancini nel ruolo di testimonial e dichiarando che questa scelta non deve dividere o mettere in contrapposizione figure che amano le Marche e che si sentono profondamente marchigiane Invece il presidente Acquaroli ha confermato Roberto Mancini Il presidente Acquaroli ha confermato Roberto Mancini innanzitutto la proposta di Valentino Rossi ancora non era stata fatta Roberto Mancini rimane un testimone importante anche se devo dire che questa scelta comunque di mettersi dalla nazionale è una scelta comunque un po' almeno discutibile Mancini sicuramente un personaggio famoso e conosciuto ma ripeto Valentino Rossi è un'altra storia Il diacono Marco Rulli attualmente in servizio presso le parrocchie di Pergola Frontone Serra Sant'Abbondio Bellisio e Tarugo sarà ordinato presbitero sabato 14 ottobre nella concattedrale di Pergola la celebrazione avrà luogo alle ore 17 e sarà presieduta dal vescovo Andrea Andreozzi Ci spostiamo a Monbaroccio dove domani sera prenderà il via la rassegna di documentari dedicata alla salute mentale La salute mentale si narra sindaco il festival torna dal 31 agosto al 2 settembre da chi ha organizzato e perché proprio a Monbaroccio Ringrazio Cooperativa Alfa che ha collaborato nell'organizzazione di questo evento che è la seconda edizione la facciamo nel centro storico il chiostro comunale adiacente alla piazza naturalmente invito tutti a partecipare perché è un argomento estremamente sentito perché a Monbaroccio perché a Monbaroccio è legatissimo a quello che è il percorso di salute mentale noi abbiamo una struttura che è l'RSA Bricciotti che di fronte porta maggiore e che si collega in totos a quella che è la mia realtà un ospedale psichiatrico negli anni 70-80 che aveva una forza specifica era conosciutissimo a livello nazionale sia perché si applicavano anche le prime pet terapie quella volta che erano un'evoluzione ma soprattutto perché i nostri pazienti non erano definiti pazienti ma erano definiti ospiti e condividevano la realtà dell'RSA Bricciotti all'interno del borgo quindi quelle che erano strutture manicomiali con le stranze bianche con le camicie bianche di cui si racconta non erano parte componente di quella che era la realtà Monbarocciese bensì i nostri ospiti giravano per il borgo condividevano i locali condividevano la parrucchieria condividevano il bar e c'era una sinergia socio-sanitaria che permetteva a queste persone di vivere una realtà al di fuori di quello che era l'aspetto sanitario ma condividere un aspetto sociale che permetteva loro di diventare uniche e speciali anche per noi con i cittadini questo è perdurato nel tempo e oggi quando arrivano queste iniziative da proporre sul territorio non posso che non accoglierle anche perché sono argomenti sentitissimi nel piano socio-sanitario l'argomento è trattato tantissimo l'abbiamo trattato con l'Università di Urbino con l'IRCA con l'ASRO con tutte quelle che erano le componenti atte a valorizzare questi circuiti se è vero è che dobbiamo parlare di una sanità territoriale quella legata alla malattia mentale è un percorso che va affrontato e che non riguarda la singola persona ma riguarda la famiglia in tutto e per tutto abbiamo fatto delle proposte nel legare la struttura RSA Bricciotti in un'ottica di recupero della struttura stessa a fronte di quello che è un percorso legato alle demenze e il borgo circostante per creare quella sinergia che allora funzionò e che credo che oggi possa ancora più funzionare a fronte di quella che è un percorso digitale e di telemedicina che può essere affrontato nella mia splendida realtà Daniela dove a che ora si svolgeranno queste serate e qual è il programma? Ore 19 al Chiostro di San Marco di Monbaroccio e le serate iniziano il 31 agosto grazie al contributo del documentario di Paolo Ruffini perdutamente il tema generare l'Alzheimer e sarà preceduto dal contributo della dottoressa Susanna Cipollari ed Emanuele Petrucci il sindaco dove sviscereremo l'argomento sull'Alzheimer la seconda serata sarà il primo settembre sempre partenza dei lavori ore 19 dove ci sarà anche una presentazione del libro di Maddalena Caprara che si chiama Mi chiamo Davide dove è seguito dal cortometraggio mi vedete presente al Gifone Fist Festival 2021 il tema generale della serata è l'adolescenza e grazie al contributo della dottoressa Maria Elena Ridolfi cercheremo di capire quali sono le dinamiche oggi dell'adolescenza e quali sono le problematiche la terza serata invece sarà il 2 settembre e si prenderà spunto dal documentario La città che cura di Enrico Rossi dove si cercherà di parlare dell'aspetto del lavoro di rete quanto è fondamentale oggi lavorare in rete sia per quanto riguarda il sistema sanitario ma anche per quanto riguarda il sistema sociale e qui ci saranno presenti Dimitri Tinti Paolo Luca Pandolfi che sono assessori sia di Pesaro che di Fano e Vito Inserra presidente della fondazione Liberamente dove qui cercheremo di capire appunto con loro quanto è importante collaborare insieme è necessaria la prenotazione? no l'ingresso è libero quindi potete venire numerosi e colgo l'occasione per ringraziare anche tutti i patrocini e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della rassegna invece nel comune di Cogli al Metauro domenica torna la pedalata ecologica alla perangelica sentiamo tutti i dettagli nelle interviste che abbiamo realizzato agli organizzatori sport e divertimento tra natura e denogastronomia a Serungarin è tutto pronto per la pedalata ecologica la perangelica organizzata dalla SD i mulistrati con il patrocinio del comune di Cogli al Metauro e dell'associazione centri sportivi italiani la cicloturistica nel pieno rispetto per l'ambiente prevede due percorsi per accontentare tutti i livelli di preparazione dei biker che prenderanno parte alla manifestazione l'appuntamento anche quest'anno è da Serungarina partiamo alle 8 abbiamo due giri il corto e il lungo il corto è un 23 km e 7,50 di slivello percorso un po' per tutti per chi pratica mountain bike è alla mano la portata di tutti diciamo poi abbiamo il lungo da 35 km e un 1,350 di slivello nel corto e nel lungo abbiamo due ristori il primo sarà su Alpereto di Cincini Fabio e il secondo a Pozzuolo come gli altri anni al ritorno siamo sempre a Soncherina abbiamo il pasta party alla fine con la Proloco e dopo si prosegue lì alla festa che quest'anno è con la manifestazione della Proloco quindi sarà una bella manifestazione per tutti per bambini giovani grandi e piccini e saremo lassù come è possibile iscriversi? l'iscrizione quest'anno sarà fatta tutta su al momento per agevolare fare insomma per riuscire un po' meglio a fare l'iscrizione facciamo tutto al momento su sia per la pedalata e sia pedalata e pasta party finale lungo il percorso non mancherà il colpo d'occhio verso un paesaggio unico come quello delle colline di Serrungarina l'obiettivo della manifestazione come ogni anno e fin dal primo anno è quello della promozione del territorio e del prodotto tipico che è la perangelica per quanto riguarda il territorio attraversiamo le colline del comune di Serrungarina dell'ex municipalità di Serrungarina e riusciamo ad entrare anche all'interno dei pereti appunto degli agricoltori che coltivano la perangelica quindi riusciamo ad avere quest'unione tra territorio e prodotto tipico riusciremo anche a attraversare i borghi che sono quelli di Bargni e di Pozzuolo che sono due gioielli e alla fine termineremo nel nostro borgo che è quello di Serrungheri questa sera chiudiamo il nostro telegiornale con le immagini girate da una nostra telespettatrice che ha immortalato un gruppo di delfini all'altezza della passeggiata dell'Isipo io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi ricordo che domani mattina alle 7 torna la rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti buona serata Grazie a tutti